La mia età è uguale, più o meno, più o meno, meno. Deve essere un posto perfetto per rilassarsi. È soltanto un posto per rilassarsi. E lei ancora dirige o compone, maestro? Oh no, sono in pensione. Ma di certo non ha dimenticato come si fa. No, non ho dimenticato come si fa. Ho letto su Wikipedia che hai frequentato Stravinsky per un po' quando eri ragazzo. Sì, è vero. E non ti manca il lavoro? Mi manca mia moglie. Non hai mai saputo niente di mia madre. Ti amava e quindi ti perdonava. Qualunque cosa accadesse voleva stare con te. Ma chi eri tu? Chi? Ho perso i migliori anni della mia vita. Tu hai detto che le emozioni sono sopravvalutate. Ma è una vera stranzata. Le emozioni sono tutto quello che abbiamo. Chris Evans, alias Captain America, ha dichiarato che inizierà a breve le riprese di Captain America Civil War, che andranno avanti fino ad agosto o settembre. Dopo l'attore avrà un anno da dedicare ad altri progetti, per andare in vacanza. E poi, e qui arriva la grande news, nell'autunno o inverno del 2016 cominceranno le riprese di Avengers Infinity War 1 e 2. Saranno circa nove mesi di riprese e i due film verranno girati insieme back to back. Insomma, non c'è un attimo di pausa in casa Marvel e soprattutto in casa Russo, visto che a dirigere i due Colossal saranno proprio i due fratelli, Anthony e Joe Russo, gli stessi registi di Captain America Civil War. Avengers Infinity War parte prima, uscirà il 4 maggio 2018, mentre il secondo capitolo arriverà nelle sale il 3 maggio 2019. Non vediamo l'ora. Io intanto vi rimando al prossimo video e alle prossime notizie. Ciao a tutti!